Buona serata, buon viaggio, muoversi in Toscana, ancora in studio Mauro Ciutini. Sono quattro al momento chilometri di coda dopo l'incidente sulla A11 avvenuto tra Montecatini e Pistoia in direzione di Firenze. Passiamo alla 1, rallentamenti tra l'allacciamento con la 11 e Firenze in pruneta in direzione di Roma, mentre in direzione Firenze, personale su strada per lavori tra Fabro e Chiusi-Cianciano. Ci spostiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, code per la viabilità esterna che non riceve allo svincolo la strassigna in uscita provenendo da Firenze. E a Firenze ricordo fino a domani i lavori di risanamento occupando una corsia per volta di via senese tra Porta Romana e le due strade. Revocata quindi la corsia preferenziale. Muoversi in Toscana con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!